Onorevole Pezzopane, decreto terremoto approvato ma bocciati tutti gli emendamenti. Quali saranno a questo punto le vostre prossime iniziative, perché lei lo ha detto più volte, manca tanto. Insomma, erano emendamenti, secondo lei, ben costruiti, che potevano risolvere definitivamente le questioni, una su tutta quella delle tasse, e invece si va avanti a suon di proroghe. Chiaramente continueremo a batterci perché le cose proposte trovino spazio dentro i provvedimenti normativi che sono stati annunciati, perché su molti dei nostri emendamenti, pur avendoli bocciati, hanno dovuto darci ragione, anche perché alcuni di questi erano addirittura stati annunciati nella fase in cui le forze politiche facevano la campagna elettorale come imminenti iniziative legislative. La questione più grande è quella delle tasse, io ho presentato l'emendamento che si era deciso al tavolo, anzi due diverse formule, tecnicamente irreprensibili, che però sono state bocciate. Ci riproveremo e la cosa importante però è che la proroga che è stata data con il decreto, ritengo una proroga insufficiente di soli 60 giorni, peraltro con un passaggio nel mese di agosto in cui è ovvio difficile trattare queste questioni con l'Europa e sarà insufficiente, e quindi ho chiesto già un'altra proroga nel mille proroga. Poi ci sono le questioni riguardanti i dipendenti della ricostruzione, su cui avevamo lavorato per un emendamento, c'è la grande questione dell'equiparazione con il terremoto 2009, mi riferisco al 2016-2017, l'abbattimento al 40% delle tasse, tutte cose che mi sembravano scontate, perché erano state annunciate anche da Lega e da 5 Stelle, che poi invece sono state bocciate. Noi ci batteremo perché la missione della ricostruzione sia nel cratere 2009 che nell'altro cratere è una missione di questa legislatura e della nostra vita.